pace e bene cari amici ben trovati in questa ventottesima domenica meditiamo sul testo di luca 17 11 19 testo della guarigione dei dieci lebrosi di cui però uno solo verrà salvato tornando a far comunione con gesù a ringraziare gesù potremmo dare come slogan a questa meditazione guarire bene salvarsi è meglio andiamo al testo gesù attraversa la samaria la galilea luca sottolinea per la terza volta che in cammino verso gerusalemme ed entrando in un villaggio gli vennero incontro dieci lebrosi che si fermarono a distanza e dissero gesù maestro abbi pietà di noi anzitutto cerchiamo di cogliere la drammaticità di questa scena al tempo di gesù venivano dichiarate lebrose persone affette da varie malattie alla pelle non solo la lebra come la intendiamo oggi magari una psoriasi a quel tempo veniva classificata come lebra la routine qual era si andava dal sacerdote il sacerdote ratificava lo stato di malattia e dichiarava la persona impura quindi inadatta a stare nella comunità e a recarsi al tempio a celebrare il culto con dio quindi i lebrosi dovevano uscire fuori dai villaggi dalle città vivere nelle campagne lontani da tutti vestirsi di stracci e a vista quando passava qualcuno dovevano gridare impuro impuro in modo che nessuno si potesse avvicinare loro così da non contrarre l'impurità capiamo bene che queste povere persone vivevano da non vivi da morti era un dramma la loro esistenza e questo stato di esclusione è anche un senso anche di lontananza da dio che veniva loro imputato e che avvertivano terminava solo se passava la malattia infatti la malattia veniva anche considerata come segno del peccato della persona del male che aveva fatto che quasi si rendeva visibile nella pelle quindi la persona non solo era allontanata da tutti ma si sentiva anche lontana da dio ora questi dieci innanzitutto al vedere arrivare gesù sono insieme cioè sono uniti nel dolore verrete tante volte anche nella nostra vita la sofferenza ci avvicina gli uni agli altri tante volte l'eccessivo benessere accompagnato da un certo egoismo ci allontanano dagli altri ognuno tira il suo così si mettono facilmente doppi vetri davanti agli occhi al cuore e non ci si rende più conto degli altri e della loro sofferenza qui questi dieci sono uniti nel dolore e si insieme invocano gesù ecco il dolore in questo caso apre all'invocazione di aiuto nei confronti di gesù non è scontato che uno nella sofferenza e nella malattia immediatamente cerchi dio tante volte la prima reazione è di rabbia ma tante volte la sofferenza trasforma trasforma il cuore e ci apre alla ricerca di dio o meglio ci apre a lasciarci trovare da dio un po così usando un'immagine semplice come l'acqua che mettiamo sul fuoco man mano che si scalda evapora e sale verso l'alto così questi dieci invocano aiuto e chiamano gesù come maestro cioè lo riconoscono come maestro e chiedono che abbia pietà di loro è interessante gesù cosa fa appena li vide disse loro andate a presentarvi dai sacerdoti ed essi andarono e furono purificati mentre camminavano ecco gesù appena li vede è bello questo appena il signore li vede subito da loro una parola subito da loro chiede loro fiducia di incamminarsi e andare dai sacerdoti guardate non era semplice mettersi in cammino perché perché uno dal sacerdote andava quando era guarito qui loro erano ancora affetti dalla loro impurità e non avevano ancora visto nessun miracolo e si fidano di gesù e della sua parola e mentre camminano vengono purificati qui c'è un'icona molto bella del nostro cammino di fede cosa ci chiede il signore di fidarci di lui e della sua parola di cercare di viverla di incamminarci di metterla in pratica mentre camminiamo mentre la viviamo ecco che dio man mano ci purifica ci trasforma ci libera dalle nostre schiavitù ed è molto bello questo il signore ci chiede fiducia di camminare sulla sua parola per farvi un esempio molto semplice così per cercare di capire mettiamo il caso di una persona che abbia difficoltà a perdonarne un'altra allora fino ad oggi è chiusa nel suo dolore nel suo egoismo e pian piano però si rende conto della sua schiavitù incontra il signore e vuole uscire da questa prigionia allora che cosa ci dice di fare per esempio il signore in questo caso anzitutto di pregare di pregare per il nostro nemico e di chiedere lo spirito santo al padre quindi magari questa persona inizia a disporsi a dare il perdono e quindi inizia a pregare per quella persona magari qualche istante durante le giornate inizia a chiedere per sé il dono dello spirito che l'aiuti ad amare questa persona quantomeno non odiarla come primo passo nel pensare a questa persona può iniziare a giustificarla interiormente come ci insegna a fare gesù in croce padre perdonali perché non sanno quello che fanno e magari a riflettere sul fatto che quella persona è diversa un'altra storia i suoi limiti le sue difficoltà le sue ferite e quindi a cercare un po di dilatare la mente il cuore ecco una persona che si incammina concretamente in questo modo sulla parola di gesù a che cosa potrà assistere man mano nel corso della sua vita del suo cammino che man mano il cuore cambia mentre la persona si fida del signore cerca di vivere il vangelo dio opera lo spirito di dio opera nel suo cuore opera prodigi opera la liberazione la purificazione ritornando al testo questi dieci lebrosi mentre camminano vengono tutti purificati a questo punto uno solo di loro un samaritano torna indietro per ringraziare il signore si prostra i suoi piedi il prostrarsi è segno di aver fatto un passo in più un segno di adorazione se prima gesù era solo un maestro per lui adesso lo riconosce come qualcosa di molto più grande che cosa è interessante tutti sono guariti ma uno solo torna indietro a rendere grazie a colui che l'ha guarito ed è interessante il termine greco che sta sotto eucaristein che richiama l'eucaristia cioè uno solo viene a far eucaristia viene a far comunione viene a rendere grazie al signore gesù che è la fonte della sua guarigione tante volte anche nella nostra vita riceviamo tante grazie san giovanni crisostomo diceva che le grazie di dio nella vita di ciascuno sono più numerose dei granelli di sabbia ma quante volte una volta ricevuta la grazia una volta superato un problema un momento di difficoltà una malattia una crisi quel che sia beh sì magari giusto un grazie volante al signore ma nulla cambia continuiamo come se nulla fosse un po come quella persona che era in estremo ritardo sul posto di lavoro e rischiava licenziamento e disperatamente cercava un parcheggio e inizio a pregare dicendo signore ti prego se mi aiuti a trovare il posto inizierò a pregare niente gira gira signore ti prometto che verrò accendere una delle in chiesa niente gira gira ti prometto che verrò a messa mi confesso tac si libera un posto e la persona tranquillo signore tutto risolto a posto così ecco vedete uno solo invece qui torna indietro ed è particolare che un samaritano è uno che dai giudei era considerato un eretico un impuro un quasi un maledetto insomma una persona persa lui solo torna indietro e gesù si stupisce dice ma non vi ho guariti in dieci e gli altri nove dove sono ma non c'è nessuno se non questo straniero che sia venuto a dar gloria a dio e gesù disse a questo samaritano alzati e va la tua fede ti ha salvato vedete tutti guariti ma solo lui viene salvato noi tante volte le confondiamo queste due cose assolutizziamo la salute fisica con la salvezza della nostra persona essere salvati e molto di più vuol dire vivere ed essere in comunione con dio avere lui presente nella nostra vita nel nostro cuore guarire bene certo è un grande dono la salute ma prima o poi la salute finirà nessuno che sia morto è in buona salute altra cosa è essere salvati e vivere in comunione con dio essere certi di essere insieme con lui e così un giorno poter risorgere con l'anima e anche con il corpo alla fine dei tempi tante volte anche nel linguaggio comune concludo si scambiano le due cose a volte nei momenti di lutto le persone dicono ma quella persona è morta il signore non l'ha salvata ma non è così se una persona ha vissuto nell'amicizia con dio e cercato di far del bene la nostra speranza che proprio sia stata salvata certo in questo caso non è guarita ma che il signore ci aiuti e illumini i nostri occhi a saper riconoscere il suo passaggio le sue grazie e a non fermarci solo a cercare i suoi doni ma che i suoi doni ci aiutino a innamorarci e a affidarci strettamente al donatore di ogni bene così da non essere solo guariti ma salvati pace e bene e buon cammino a tutti